Prima che inizi il video ho un messaggio molto importante per voi Ebbene sì, il 2, il 3 e il 4 novembre saremo a Luca Comics nello spazio Team all'ex cavallerezza per giocare insieme ai Team Games, far autografi e tanto altro Ci saranno anche le nostre maglie, le telpe della prima linea Ovviamente vi lascio maggiori informazioni in descrizione Siateci Tovecati un po' questa Incredibile E questo che è? La caccia arpiccione Buon Halloween a tutti, animali animale O forse era ieri In ogni caso, ho voluto tenere questo video fino ad oggi Proprio per simboleggiare la skin di Halloween vera Godetevi questo nuovo video di Fortnite Perché ne vedrete delle belle Buona visione Buona visione Buona visione Qui tra la visione Grazie a tutti. Ok, ok, l'avete vista, una vittoria reale, beh, diciamo un po' che di cacca, però fidatevi che anche se l'avete vista velocizzata, è stata bella, è stata studiata, è stata ragionata e come ogni vittoria ci sta anche sempre un pelo di fortuna. E ben tornati in questo nuovissimo video, io spero che voi siate concentrati perché quest'oggi come potete vedere qua sotto abbiamo la nuova skin di Halloween, della zucca pazza, sembra più un cavaliere della morte, che è un cosplay di Halloween, ma l'importante è che sia cattivissima, che ci gasi, che ci porti magari anche una vittoria con la webcam. Mi raccomando, come sempre, lasciate un bel mi piace. Voi la vedete quanto è bella, cioè ogni volta mi esce la bava colorata di arcobaleno. Scendiamo subito giù in battaglia e BOOM! Ed eccoci qua, tutti si cacceranno qua e ovviamente ci cacciamo anche noi, non vedo l'ora di spaccare, poi scendiamo, stiamo scendendo come un fulmine, figlio di Zeus! Ah, 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 hai fatto un brutto errore, inizia una nuova partita, scusa. Troviamoci un punto tranquillo, un punto calmo per darci un giac giac, visto che veramente forse sono il figlio di Zeus, che ha deciso di darmi un dono nella prima cassa così potente, quindi io sono felicissimo. Ah, ahia, quello sta al campetto, quello è un altro che lo rincorre al campetto, scusate, gente che rincorre gente, cioè... Ah! Un zecchio! Cioè, raga, prima ho visto 800 personaggi, adesso non c'è più nessuno, com'è? Il vero problema è... Ok, stavo per dire, c'è qualcuno? Sì, ho sentito un barrette, quindi, dire che... Non è neanche bello. Sascha, concentrazione, entra nel castello, spacca tutto e via. Quello cosa sto facendo? Sto dando dei punzecchi incredibili, eh, comunque. Come nel far west, raga, sono più veloce io. Inchinatevi tutti al figlio di Zeus, in cosplay, perché... A me, il mio istinto dice vai. Il mio istinto ha detto bene, cazzarolo. Cazzarolo, nuova parolaccia. Ma che start abbiamo fatto, animale animale? Cioè, guarda, foto anche il giardino del vicino. Ma ragazzi, sono bravo. Caro babbo Natale, quello che desidero oggi, non a Natale, sono... Dei colpi piccoli. Sarebbe per caso così gentile di darmene qualcuno. No! Io... Oh, l'ho trovato. L'ho trovato. Non ci credo. L'ho trovato. Vabbè, ok. Pivello. Allora, la safe non è lontana, però... Anche noi abbiamo il culo abbastanza pesante, eh. E il mio personaggio li specchia precisamente, ma proprio precisamente, come sono io, pigro. Ora, non scherzando, qualcuno lì aveva raccolto qualcosa. Hai capito sta piccola aspirapolvere, eh? Eh, ehm. Dove ho... Mi sono incastrato, aspetta. Oh, oh! Troppa gente! Sono fuori! Cerco di prendere il meno danno possibile. Ok. Un attimo che c'è un po' di difficoltà qui, eh. Stupido streamer. Me ne vado in safe con safe kill. Nanagna, tu sei morto. Beccati un po' queste- Me la sono bella rischiata, eh. 16 di vita. Non è mica poca, eh. Però noi... Guardate quanto mi vendo forte. Guardate quanto sono bravo, eh. Qua non c'è da ricaricare un tubo. Qua invece sì. Ok, che fai, cioè... Quel 10 di scudo in più. Ma fa mai male, eh. Ok Non l'hai visto? Vabbè ma sei stupido Meglio Ma o meno male Ok Ah Oh qua c'è No c'è un'ombra Sta arrivando un'ombra Allora lanciare a ziqua dentro Non lo posso usare Pensa Sasha Pensa pensa Ciao bello Subito Infatti subito il medikit Medikit così prendiamo anche lo scudo Medikit così prendiamo anche lo scudo Medikit così prendiamo anche lo scudo Manca 7 kill 9 persone Sono fortissimo Qua c'è sempre quel dubbio lì E tengo questo Cioè lanciarazzi si Assolutamente No vai Teniamo lanciarazzi che è sempre il nostro amico Slurpettina Via così Ok abbiamo Abbiamo anche una trappola da usare Già un pettino per scappare Abbiamo tutte le carte in regola Per provare a provare a provare a vincere Ah che si piglia il pezzetto qua di montagna È proprio Le cornia paura Mamma ci ha insegnato A non avere paura di niente Sono proprio in mezzo Se non mi colpisce un cecchino Vuol dire che veramente sono graziato da qualcuno Comunque Ok c'è anche un me Gadi Sì Guarda sta giocando lo skirmish questo Perfetto Ora non ho più colpi di lanciarazzi Ma perché Non volevo proprio Ok vabbè quello ho capito Si è proprio piazzato Oh mio dio Male Se lì c'è uno è male Ma se c'è sicuramente uno è male Aia No Dai 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 Ho tolto 800.000 di vita Dai Sì 70 Guarda Tutto questo per rompere il coglione me Che adesso creperà Con 30 di vita Dai Oh ma quello Ammazzato dal nabbo Camperato Ammazzato dal nabbo Camperato ci godo Quanto ci godo Come se avessi vinto Sono felicissimo Cazzo No vince il nabbo Non ci credo Te lo dico Tra di vita nabbo Cosa? Oh mio dio Cosa ho assistito? Incredibile Ai 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 Buttiamo il nostro amico Ci buttiamo su Ecco Dai su Oh Oh my jesus Oh my jesus Ora Evitiamo che il tipo Ecco Quello che lo sta facendo Dai ciao bello Grazie Brutta Stupida Cosa vedono i miei bellissimi occhi? Uno scudo da 50? Cosa vedono i miei bellissimi occhi? Una pazza che mi vuole caricare? Ahah Ok grazie Non ho materiali Ma basta Ma basta Ma basta Ma basta Mio dio Voi non state Capendo la gravità Oh mio dio E questo che è? A caccio al piccione Mio dio Che fatica raga No Sono morto Ok Cioè Io tra tutti i posti Dove potevo mettere una trappola La metto Dove devo andare Io Vero? Vero piccolo ghiacciolino Al cioccolato? Eh Comunque Animale animale Brutto periodo Per le zucche Loro ci coltivano Ci prendono Ci intagliano Ci mettono le candele dentro La mia bellissima Parco Pacifico Sempre insieme a me Prima di andare a Parco Pacifico Passiamo sempre dall'amico L'amichetto viola qua Eh Ok Grazie scusami eh No perché Sai Mi volevi prendere il lancio a granate Così sotto gli occhi Non mi sembra il caso eh Scaracca dorato raga E via Ma vaffan Oh no Che ansia raga Se perdevo tutte No 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 Io me ne vado No io me ne vado No io Io ho quitto raga Ho quitto raga Quitto Vado Ne vado Ciao Cioè Adesso vieni a prendere pure qua Dai vieni a prendere dentro la casa Dai Che ansia raga Ma ce l'hanno veramente tutti con le Con le zucche Completamente assurdo L'abbiamo passato penso e spero Il momento traumatico della partita Perché Se ce ne sono Mi sta prendendo Mi sta prendendo per il culo Mi sta prendendo Pure Tutte Dammi un'altra ti prego Ok Eh Questa È buona Un altro scaracca Cioè quanti scaracca ci sono qua Io ho piazzato la trappola Spero che qualcuno la becchi E la fambrò da tutti Io non so se la mia testa È un lucernaio O è una zucca Perché cioè La vedo da chilometri di distanza Io passo in mezzo Ma se Tanto ormai Adesso si può Aia Ah l'hanno ucciso Aiaiaiaiaiaiai Uso le bombe O non uso le bombe Ok magari il tipo adesso mi ha visto Però Non so le armi che ho Tipo Questa Boom Tu piccioni con la pava Ora Il tipo sta dietro Il tipo sta davanti È arrivata una cecchinata Quindi potrebbe in realtà essere A chilometri A chilometri di distanza Però vabbè Penso che sia a chilometri di stanza In ogni caso ti beccherai E invece non era a chilometri di stanza Pazzesco raga Stanno camperati Come dei passavdelli Dov'è mo? Dietro? Basta! Ma ovunque! C'è Pure Guarda Pure cosa facciamo così Basta! E che cacchio però eh Anzi probabilmente morirò probabilmente Ma vaffanbrodo dimmi che c'hai delle bende Sì 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 Ce l'ha ce l'ha Ce l'ha The Dream The Dream No non ce l'ha No Vi giuro raga ho visto che aveva delle bende Ma guarda che questo qua sto provando a fare Niente raga Una partita che poteva essere oro Niente Addio Tadà Quello era uno stronzo Quello era uno stronzo E poi è viva gente così Con una kill che va in giro a caso Mancavano otto persone Animali animali Direi che per questo video è tutto La nuova skin è stata giocata La nuova skin comunque ha fatto una vittoria Un pertina Ha fatto una partita molto bella È arrivata in finale Spero davvero vi siete divertiti come sempre Lasciate appunto un mi piace Vi potete iscrivervi al centro Guardare altri miei due bellissimi videolati E noi ci si becca ad un prossimo video Stay angry Animals Woo